Favorire l'inclusione sociale dei soggetti disabili è l'obiettivo del progetto Disconosco dell'Associazione di Volontariato verso la Luce che vede coinvolti coloro i quali a vario titolo si occupano di disabilità. Il progetto, finanziato dalla Regione Basilicata, è ispirato ad Andimatica, la mostra convegno biennale che si tiene a Bologna. Il 30 marzo 2012, presso l'Hotel Licos di Grumento Nova, si svolgerà una mostra convegno che vedrà la partecipazione di aziende che offrono ausili strumentali e metodologici di associazioni di volontariato e cooperative sociali che si occupano di disabilità. E poi quattro convegni per discutere di volontariato e disabilità, metodologie ed organizzazioni, inserimento lavorativo, famiglia e disabilità. Una giornata interessante che mira a coniugare servizi e ausili esistenti e a dare risposte ai problemi dei disabili.